Ciao, sono Laura Puccini, toscana di origine. Nasco come personal trainer e ho lavorato 10 anni in palestra facendo corsi musicali e insegnante di fitness. Poi mi sono appassionata alla ginnastica posturale, di cui il Pilates fa parte. Lavoro come insegnante di Pilates e faccio parte del team Pure. Mi sono appassionata al mondo del Pilates perché lavorando in palestra troppe volte guardavo i clienti che facevano gli esercizi da solo in maniera sbagliata e non capivo perché non riuscissero ad allineare il corpo, ad avere una postura corretta durante l'esecuzione degli esercizi. E più avanti negli anni ho capito che anche persone molto giovani hanno problemi di tipo posturale o soffrono di dolori di schiena dovuti ad atteggiamenti posturali sbagliati, a posizioni prolungate durante il lavoro. E questa disciplina, che appunto è il Pilates, mi ha aiutato a far capire ai miei clienti come si può ottenere il massimo risultato anche facendo un'attività che non c'entra niente con il Pilates, quindi un altro sport, utilizzando i principi del Pilates, quindi gli allineamenti del corpo e le posture corrette. Il suggerimento che do alle persone che seguiranno le mie lezioni è di essere totalmente concentrati in quella mezz'ora, venti minuti di lezione in cui la testa si deve collegare con il corpo e quindi ogni esercizio che verrà proposto mi auguro che venga eseguito con attenzione. Io sono ispirata ad allenarmi perché credo nella salute del corpo, il corpo ha bisogno di muoversi, il corpo è nato per muoversi e dunque sento il bisogno e cerco anche di trasmettere il bisogno di muoversi a tutte le persone che mi seguono. Io avrei voluto fare medicina e quindi sicuramente se non fossi un'istruttrice sarei un medico o comunque sarei voluta essere un medico. La mia frase preferita è men sana e incorpore sano. Pure TV è innovativa, di qualità e per tutti. Pure TV Pure TV Tech